Chi fu il miglior giocatore dei mondiali uruguai 1930? Fu il difensore e capitano uruguayano José Nasazzi. Alto 1,82 m per 85 kg e capace di vincere un mondiale, due olimpiadi e quattro Copa America. Davvero leader si fece perdonare la leggerezza sul gol del 2-1 dell'Argentina con un secondo tempo strepitoso. L'Uruguay era tutto proiettato in avanti, ma lui riuscì a stroncare sul nascere tutte le velleità di contropiede dell'Argentina. Figlio di un lombardo, di Essinolario, era soprannominato e il gran mariscal della defensa, il grande maresciallo della difesa. Curioso il racconto dell'amico Diego Lussero che festeggiò con lui dopo la finale. Lussero racconta che dopo due grappini Nasazzi gli disse candidamente che era stato un giorno pieno di emozioni e di sentirsi stanco. Morale della favola, il capitano della nazionale campione del mondo, alle 10 di sera riposava placidamente nel suo letto.